E alla fine la revoca è arrivata, Gela torna in zona bianca, era quello che tutti i gelesi aspettavano, quello che tutti gli esercenti aspettavano. È stata comunque una lunga mattinata di passione, il sindaco già questa mattina dopo la notizia della proroga della zona rossa fino al 29 luglio aveva convocato la stampa perché dopo tanti contatti con Aspe e la regione gli era stata garantita la possibilità e la revoca con l'approvazione del decreto Draghi. A quanto pare le promesse sono state mantenute ma è stata molto difficile, è stata una lunga mattinata fatta da tensioni e nervosismi in attesa di una telefonata che non arrivava mai. Fortunatamente poi è arrivata la relazione dell'ASP, una relazione positiva che ha consentito quindi alla regione di preparare l'ordinanza. Il presidente Nello Musumeci ha dunque revocato tutte le zone rosse presenti in Sicilia, compresa quella di Gela che da oggi dunque è zona bianca. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco al termine di questa lunga mattinata di passione. Sindaco è arrivato finalmente il provvedimento che ci si aspettava, Gela torna zona bianca ed è un sospiro di sollievo per tutti. Sì, non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione. Il mio primo pensiero va verso tutte le categorie più penalizzate. Mi auguro che così possono tornare immediatamente a lavorare, a riprendere fiducia e a guardare al futuro con maggiore serenità e tranquillità. Preciso altresì che tutto questo non deve e non può significare il libera tutti. I dati della curva dei contagi anche di ieri e quelli che complessivamente si registrano oltre i 650 nella nostra città devono fare riflettere tutti. E quindi a maggior ragione non posso che ribadire ancora una volta di essere rispettosi delle regole, evitare gli assembramenti, indossare la mascherina ed evitare di essere poco responsabili. Aggiungo a questo che occorre vaccinarsi perché solo così si può combattere e distruggere questo Covid. Sono convinto, mi auguro, voglio sperare che coloro i quali ancora non l'hanno fatto e sono tanti riflettano e riflettono attentamente perché, ripeto, solo col vaccino possiamo salvare se stessi e gli altri. Nelle ore convulse di ieri la vicenda della revoca di Piazza Armerina ha fatto discutere sul doppio pesismo da parte della Regione. Lei che sensazione ha avuto? Io da istituzione intanto mi sento di escludere categoricamente che in situazioni del genere che che ne possa dire qualche personaggio ci possono essere favoritissimi. Lo escludo categoricamente perché in questi casi non c'è dubbio che qualunque ufficio e soprattutto l'ASP che in questi momenti è chiamata a dare sulla scorta dei dati scientifici e medici le risultanze e le relazioni per chiedere se una zona può tornare ad essere bianca o deve rimanere rossa non posso assolutamente pensare che ci possa essere favoritismo perché il tutto non può che basarsi su questi dati scientifici e medici e sulla relazione che fa un ufficio competente di istituto che deve predisporre e preparare questo lavoro. E sono state ore di tensione soprattutto per i tanti commercianti e ristoratori che questa mattina si sono riuniti a Palazzo di Città di fronte a Palazzo di Città sulla scalinata di Piazza San Francesco in attesa di notizie, notizie che sembravano non arrivare mai fortunatamente adesso c'è stato il via libera, si torna dunque alla zona bianca, da oggi tutti i locali possono riaprire l'appello naturalmente degli esercenti e gelesi è quello di frequentare i locali gelesi e tornare a frequentare i locali gelesi come si faceva prima della zona rossa tra l'altro per invogliare i clienti da oggi ci sarà una promozione particolare, sentiamo. Comunichiamo che la manifestazione non si farà più, eravamo in contatto anche con la questura per vedere di farli in maniera, in zona rossa, farli in maniera pulita ma dato che al 99% passiamo in zona bianca quindi noi andiamo a lavorare proprio per portarci di nuovo la nostra clientela, i nostri concittadini anche quelli di fuori, quindi speriamo che il messaggio arrivi un po' a tutti, sabato e domenica tutti noi dell'associazione quindi diciamo la maggior parte dei ristoratori, dei bar, di Gela faranno una scondistica del 20% del conto finale di quello che si dovrebbe pagare. Abbiamo la cosa positiva in questa vicenda che ci siamo uniti tutti e abbiamo trovato una bella sinergia e questo rimbalzo di responsabilità a noi ci sembra che è fuori di ogni logica perché noi abbiamo un decreto legge che dà dei parametri per andare in zona bianca, zona arancione e zona gialla e ancora noi siamo qui ad aspettare e c'è la relazione dell'ASP che sappiamo che è positiva e quindi è il nostro lato a nostro favore e stiamo aspettando, il sindaco, stiamo uscendo dalla stanza del sindaco, ancora aspetta che il presidente della regione firmi un'ordinanza, sembra che dobbiamo ricevere una grazia, però obiettivamente noi non vogliamo niente vogliamo lavorare, nel senso non chiediamo nulla, vogliamo andare a fare il nostro lavoro.